Buongiorno e bentrovati con l'edizione mattutina del TGL News. Apriamo subito parlando del grave incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri sulla tangenziale di Piacenza. In un tamponamento sulla carreggiata che arriva da Montale poco prima della rotonda della Galleana sono rimasti coinvolti tre mezzi, due furgoni e un'auto. Ad avere la peggio due occupanti dell'auto rimasti incastrati tra le lamiere. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco, il personale del 118 con due ambulanze e la polizia stradale per i rilievi. Strade e accessi monitorati 24 ore al giorno grazie all'occhio elettronico di 10 telecamere. Ogni veicolo che entrerà nell'Unione Bassa Valtrebi e Valluretta sarà controllato tramite il numero di targa, la caccia di irregolarità e del passaggio di veicoli rubati. E' questa la novità che l'Unione che comprende Calendasco, Rottofreno, Gragnano, Gossolengo e Rivergaro è pronta ad introdurre nei prossimi mesi con una spesa complessiva di 116 mila euro. Piacenza nel fine settimana saprà se farà parte della rosa delle dieci finaliste come capitale italiana della cultura 2020. Ci hanno informato che sul sito del Ministero tra sabato e lunedì comparirà il verdetto. Ci spiace non aver avuto la possibilità di implementare il materiale inviato, ha commentato l'assessore alla cultura del Comune di Piacenza Massimo Polledri e quando sapremo l'esito a prescindere da quale sarà, convocheremo gli interessati per capire come proseguire e come dare vita ai progetti contenuti nel dossier. Chiudiamo con lo sport. Ieri sera la Wixle-IPR Piacenza, nonostante un pronostico pesantemente indirizzato a favore dei più quotati avversari, ha piegato l'Azimuth Modena dopo oltre due ore di battaglia che si sono protratte sino al quinto set. Due punti che potrebbero pesare tantissimo al termine della stagione regolare nella corsa alle migliori posizioni play-off. Per questa edizione è tutto, il prossimo appuntamento è alle 13.15 con il TGL, ma l'informazione continua sul nostro sito liberta.it. Grazie a tutti.